Red Informatica è un distributore nazionale quindi operiamo solo ed esclusivamente sul mercato italiano siamo presenti da 40 anni che cosa vuol dire portare valore al canale italiano per noi portare valore vuol dire soprattutto ricerca di nuove soluzioni siamo un distributore che alcuni definiscono startupista in quanto portiamo tecnologie che non sono ancora conosciute al mercato italiano e questo vuol dire dare un grande aiuto ai nostri clienti perché tutto il tempo che noi dedichiamo a fare ricerca di queste soluzioni innovative gli permette di essere più veloci e più efficaci nel portare le soluzioni ai loro utenti finali altro significativo per quanto riguarda il nostro valore è la formazione molti dei nostri delle nostre prodotti soluzioni vengono distribuiti solo da noi e quindi noi nei confronti del nostro canale siamo come se fossimo i produttori e quindi trasferire le nostre competenze dove siamo sempre certificati dai nostri fornitori ci permette di essere un partner significativo nei confronti dei nostri clienti in quanto apprezzano le nostre competenze e il trasferimento di formazione dove molte volte il corso ce lo inventiamo noi perché molti di questi vendor sono all'inizio e quindi non hanno ancora strutturato la formazione per noi è un grande valore che i nostri clienti ci apprezzano una delle cose che ultimamente stiamo facendo con i nostri rivenditori che sono tipicamente i medio piccoli system integrator italiani che non sono molto acculturati nel fare attività di marketing è quello di supportarli nel cominciare a fare questa attività che è significativa e importante sia per loro che per i loro clienti e quindi li supportiamo nella gestione delle attività marketing dalle mail, dai webinar, dai workshop e questo è un processo che abbiamo cominciato un anno fa circa devo dire che alcuni di loro lo stanno apprezzando molto e continuano a collaborare con noi per sviluppare nuove attività marketing presso i loro utenti finali grazie a tutti grazie a tutti